se sei un addetto alle vendite all'interno di una struttura ricettiva addetto al front office al booking revenue management distribuzione se sei un direttore un vice direttore insomma se ti occupi di vendita all'interno della struttura ricettiva questo corso è per te in questo corso affronteremo il processo di applicazione di una strategia di ancillary revenue management e quindi in questo caso come poter migliorare i propri ricavi provenienti dagli servizi accessori è chiaro che molti corsi e molta attenzione è stata data in questi ultimi anni all'argomento revenue management per l'ottimizzazione del ricavo proveniente delle camere poco ahimè finora per tutti i ricavi ottenibili dai servizi accessori ecco in questo corso ci concentreremo su questo e vedremo step by step come implementare un processo che ti consente appunto di migliorare il fatturato complessivo io sono Emanuele Nardin direttore di hotel performance mi occupo di formazione e di consulenza in ambito revenue management pricing e distribuzione dal 2011 e ho pensato a questo corso strutturandolo in maniera tale che tu possa realmente andare ad implementare poi quello che vedrai nella tua struttura ricettiva dandoti alcuni suggerimenti e identificando i diversi step necessari per l'implementazione di questo processo di ancillary revenue management e toccando anche un po' l'argomento tecniche di vendita